Ordinare prodotti M-Way è facile e veloce. Una volta inserito l'ordine ci vorranno alcuni giorni prima che il prodotto vi sia recapitato. Una volta che i prodotti M-Way vi vengano recapitati avranno fatto un lungo viaggio. Riccarichiamo questo filmato per scoprire da dove è nata l'idea di questo progetto. Access Business Group cura la parte logistica del vostro ordine M-Way. Per evadere gli ordinativi dei prodotti M-Way, Access Business Group si serve di diversi magazzini e centri di distribuzione situati in Ungheria, Polonia, Russia e Paesi Bassi. La maggior parte dei prodotti M-Way viene prodotto negli Stati Uniti. Container marittimi trasportano questi prodotti fino al porto di Rotterdam nei Paesi Bassi. Da lì vengono trasportati in treno fino al centro di distribuzione europeo di Venio nei Paesi Bassi. Da Venio vengono trasportati al nostro centro di distribuzione locale di Budapest. Il nostro centro di distribuzione di Budapest opera con i più alti standard di efficienza e tecnologia. I prodotti M-Way, proprio come i vostri, arrivano qui regolarmente in grandi quantità. Per assicurarsi che i prodotti non vengano smarriti, TAG a radiofrequenza, TAG RF, vengono applicati per garantire la loro tracciabilità. I prodotti vengono quindi collocati in una posizione specifica all'interno del magazzino, in attesa della loro prossima destinazione. Alcuni di questi prodotti vengono utilizzati per assemblare kit promozionali o materiali illustrativi. La maggior parte dei prodotti, tuttavia, finisce nel punto di prelievo, PICLINE, dove i prodotti vengono smistati per gli ordini. In primo luogo, le scatole di confezionamento vengono dotate di codici a barre univoci. Attraverso la scansione dei codici a barre, le scatole vengono dirette verso le giuste posizioni, nei punti di prelievo. I prodotti fragili vengono imballati separatamente in piccole scatole interne, utilizzando un sistema di riconoscimento vocale, Picking Vocale, che opera su comandi vocali. Il nostro avanzato sistema di prelievo manuale, guidato da un sistema di spie luminose, PICK2LIGHT, indica quali prodotti devono essere prelevati per ogni scatola. Alla fine del processo di assemblaggio, la fattura e il Picking List vengono aggiunti all'ordine. Il peso di ogni scatola viene controllato per correggere eventuali errori di preparazione, Picking, e, ove necessario, si provvede a riorganizzare i prodotti nella scatola. Gli ordini, così completati, vengono fotografati. Ciò ci consente di esaminare rapidamente potenziali reclami. Prima di sigillare i campioni, questi vengono riempiti con materiale di riempimento, per proteggerli da eventuali danneggiamenti. Gli ordini con destinazioni identiche, vengono messi dal nostro personale, sullo stesso pallet camion, per raggiungere il centro di distribuzione del Corriere. Al fine di garantire una distribuzione impeccabile, collaboriamo con le migliori organizzazioni di Corrieri. I vostri ordini vi saranno consegnati a domicilio, grazie alla rete di distribuzione del Corriere. AXS Business Group, matching supply chains.